Grazie a tutti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. La mia moglie è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta tra le donne e benedetta il tuo seno, Gesù. Che è un'unità di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta tra le donne e benedetta tra le donne e benedetta il tuo seno, Gesù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.